Ma dipende da tutti noi, dipende da tutti, ma finché ci sarà gente, milioni di interessezzatori che guardano il grande fratello, no? Ma che cosa gli insegna il grande fratello, ragazzi? Ma stiamo scherzando? Io non dico che vi dovete appassionare alla storia di noi, perché purtroppo è una storia triste, ma è anche una storia bella, perché ha un vissuto, poi finita in certo modo, ma perché lui aveva rispetto delle regole, ha fatto il suo lavoro, ha fatto il suo dovere più in fondo, ma non mi dico che siamo noi, questi telefonini, siamo noi che facciamo noi, che io non so nemmeno pronunciare, siamo noi, ma sentire pronunciare da una terrorista in televisione che dice fare la vittima è diventato un mestiere, ma io la farei fare a lei la vittima, sono 15 anni che io aspetto che mio marito torna a casa e sono 15 anni che mio figlio non chiamano più papà. Capito ragazzi? Quello che voglio dire, spiegatevi un attimino infermolata, ma è così, siamo noi che diamo questa possibilità a questa gente, ragazzi, siamo noi che dobbiamo dire, basta, non voglio più sentire, non voglio più, ci sono tanti altri modi per passare la giornata, per passare la vita, per stare insieme, per realizzarsi, non queste le cose, ragazzi. Ecco, scusate.